Fuori dagli schemi, dentro la vita reale. E questo è il let motive dell'open day all'ISIS Majorana Fascitelli di Sernia. Nel fine settimana porte aperte i ragazzi che il prossimo anno dovranno iscriversi al liceo scientifico. Nella scuola della città Pentra, fiorell'occhiello dell'intera regione, viene esposta una proposta formativa che va dalle attività di laboratorio a una didattica innovativa e fuori dagli schemi. Uscire dallo schermo è un tema peraltro individuato, scelto dai nostri studenti a seguito di un percorso di educazione civica che hanno affrontato con i propri docenti e l'idea è quella soprattutto di vivere la loro vita senza il filtro dell'iPad, del telefonino o meglio con l'ausilio ma soltanto in maniera consapevole. Per questo che noi per esempio promuoviamo sia nel percorso di scienze applicate a curvatura digitale sia nella classe 3.0 l'utilizzo consapevole proprio dell'iPad al fine di cogliere gli aspetti salienti che sono diciamo formativi per la crescita dello studente. È un ambiente sicuramente fecondo e ripeto non lo diciamo sulla base di monitoraggi interni o per una sorta di autoreferenzialità. I dati sono oggettivi e sono provenienti dalla piattaforma RAV del Ministero, il rapporto di autovalutazione nella sezione esiti a distanza e soprattutto per la fondazione Agnelli. I dati di eduscopio attestano come il nostro istituto sia un punto di riferimento per il territorio molisano e non solo. Un percorso per insegnare i più giovani ad avere un maggiore spirito critico ed educarli ad una socialità reale al di fuori dei social network. Noi con questo Open Day infatti è proprio questo che vogliamo rovorre. Cioè i social possono essere usati, non è un divieto all'utilizzo dei social, però è importante che appunto siano usati con moderazione e con la giusta misura. Quello che facciamo a scuola varia, non è solo vera e propria didattica la lezione classica, ma si spazia anche con molte attività che ogni anno vengono organizzate e proposte. Sì, certo, perché questa scuola secondo me ha una formazione al 360 gradi, quindi per il futuro secondo me è molto indicata. Noi diciamo ai ragazzi di valutare bene quello che vedono qui, quello che vedono da tutte le parti, insomma, e poi prendere una decisione. Noi vogliamo solamente appunto fornire le informazioni, ma la decisione ovviamente poi dipende da loro. Grazie.